Il colesterolo buono non è sempre un alleato della salute. Una ricerca americana spiega perché concentrazioni troppo alte possono causare infarto e morte. Un gruppo di scienziati americani ha avuto qualcosa da ridire sul concetto di colesterolo buono. A quanto pare, infatti, questo non sarebbe così benevolo nei confronti di cuore e arterie. Mark Allard Ratic, autore dello studio e professore dell'Emory University School of Medicine di Atlanta, ha spiegato che sebbene il colesterolo buono sia sempre stato accettato e favorito dai medici, in altre parole, troppo colesterolo buono diventa cattivo. In realtà si rivela dannoso quando è presente in quantità troppo elevate. La domanda a questo punto sorge spontanea. Entro quali livelli il colesterolo HDL può essere considerato buono? Per trovare una risposta. I ricercatori hanno preso in esame 5.965 individui con un'età media di 63 anni, di cui il 35% donne e la maggioranza con malattie cardiovascolari pregresse. L'indagine si è focalizzata sui livelli di colesterolo buono, incidenza di infarto e morte. Per restringere il campo, i volontari sono stati divisi in 5 gruppo diversi, sotto i 30 mg barra VL. mg per decilitro, 31, 40 mg barra VL 41, 50 mg barra VL 51, 60 mg barra VL e oltre 60 mg barra VL 4 anni dopo aver effettuato queste analisi. Il team di Allard Ratic ha scoperto che i livelli troppo bassi o troppo alti di HDL portano a un rischio cardiovascolare maggiore. I ricercatori hanno studiato lo stato di salute dei partecipanti. In altre parole, infarti ed eccessi si presenterebbero con maggior facilità nei due gruppi estremi. Basti pensare che la presenza di una concentrazione di colesterolo buono oltre i 60 mg per decilitro sono state collegate ad un rischio di attacco di cuore e morte superiore addirittura del 50%. Numeri che parlano chiaro, commentati dallo stesso Allard Ratic. Per noi cardiologi, potrebbe essere arrivato il momento di rivedere la nostra visione del colesterolo buono. I risultati sono importanti perché contribuiscono a un numero sempre crescente di prove sul fatto che concentrazioni di colesterolo HDL molto alte nel sangue potrebbero non essere protettive. Non resta che capire il motivo di un tale capovolgimento di fronte. Non esiste ancora una risposta univoca, tuttavia una possibile spiegazione è che il colesterolo HDL a elevate concentrazioni possa diventare disfunzionale. C'è di proteggere dalle patologie cardiovascolari, le può favorire, ha concluso il ricercatore.